ha preso la testa Sergio Enao il campione nazionale colombiano anche lui del Team Sky che ha ritrovato tutti gli elementi di maggior spicco soprattutto quando si pedale in selita Enao naturalmente Michel Nieve, Michel Landa Garen Thomas come ultimi uomini a scortare Chris Froome in maglia gialla e ci fermiamo adesso per l'ultimissima pausa pubblica la maglia gialla che aveva perso di Ricci Porta gran bella azione questa comunque di Michel Valgren che ricordiamo è rimasto vittima di una bruttissima caduta all'ultima freccia ballone una disattenzione una fase che sembrava abbastanza tranquilla di gara da parte del danese della Stana